Quirinale, mentre i capi delle missioni diplomatiche salgono a presentare gli auguri al presidente, anche noi italiani ricambiamo i voti che Einaudi ci ha indirizzati nel suo messaggio. Nella sala della Madonna della Seggiola sarà primo, giusto l'ordine delle precedenze, il nunzio apostolico Monsignor Borgoncini Duca, a cui segue l'ambasciatore sovietico Mikhail Kostilev. Per la Spagna l'ambasciatore Antonio de Sangronis Castro, per il Belgio l'ambasciatore André Motte, per gli Stati Uniti James Clement Dunn, moderni abiti che aggiornano la cerimonia e uniformi che, come questa di Sir Malat, Gran Bretagna, ne sottolineano il valore di tradizione. All'ambasciatore di Francia, Fouque du Parc, seguiranno quelli dell'Iran e del Libano, messaggi di paesi vicini e lontani, reciproca volontà di amicizia fra i popoli.